Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove ci sono 13 km di coda per un mezzo pesante navaria al km 304 e 500 tra Baldarno e Firenze Sud in direzione Bologna. 6 km di coda per un mezzo pesante navaria ora rimosso tra Firenze Scandici e in Cisareggiello in direzione Roma. In A11 coda tra Firenze Ovest e Pretoest verso Pisa. Infi per lì rallentamenti tra Scandici e Firenze Scandici in direzione Firenze. Strada regionale 222 Chiantigiana bloccata per un incidente all'altezza di Chiocchio a Greve in Chianti. Per la viabilità cittadina a Firenze fino a metà settembre per lavori di edistribuzione chiusa la direttrice composta da Via Pisana e Via di Ponte a Greve. Informazioni sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!